Siamo bene Ricevuto Me ne accerterò Saremo lì presto Che cosa ha detto? Ho le coordinate del punto d'incontro È vicino Ottimo Reggetti forte Cercano di eliminarci Sì, ci sento Lo sa Dio come faremo uscire da qui Tieni, tieni a me Oh mio Dio Jake Questa città sta andando all'inferno Oh cacchio Ehi, spara quel coso Inizia a fare male davvero La prossima rubo una limousine Cavolo Tieniti più forte che puoi Jake Jake Oh figlia di Dannazione Non reggerò ancora Sì, che puoi Sto arrivando Sì, che puoi Jake Oh figlia di Dannazione Non reggerò ancora Sì, che puoi Sto arrivando Tutto ok? Sì Bella presa Sto concentratissimo Tutto ok Sì 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 L'helicoptero è tornato! Porca sottotitura! Il bastardo ci aspettava! Tieni duro! Esatto! Attenzione! Ecco fatto! Resisti! Sì! 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 Grazie. 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 Forza, andiamo Abbiamo ordine di evitare qualsiasi contatto Lui sa che Wesker era mio padre Non credo, perché? Niente, forse gli sto semplicemente antipatico Alla prossima Che razze di elicottero ci hanno mandato dietro? Una roba del genere costerà 15 milioni di dollari Allora il terrorismo è l'elbe Forse hanno un petroliere o due tra gli amici Petrolieri? Sai, nel mio paese si crede che lo zio Sam sia la causa di tutti i problemi del mondo Sì, certo E tu sei lui Ehi, quegli stronti sono avuti Essere così popolari è uno schifo Non è proprio possibile, tirata Va dai Non è proprio Grazie a tutti. Sherry, è aperta All'attacco 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 Ok Leon Ma come sei bello Eh Stiamo andando da lui proprio ora Dove si trova? Devo sapere Lascia fare a me Credevo avessi l'ordine di evitare contatti con chiunque Leon non è una persona con me Mi ha salvato la vita a Raccoon City Non è chiunque Eh Eh va bene No Attenzione No 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 Questo mostro non mi piace Leon L'aereo No Ancora lui È amico tuo È una specie di ex che non sa quando mollare il colpo Benvenuto nel club Vedrai ci si fa il caldo E non solo a quello Ok Santo Dio Allora Allora Un caldo Allora Attiratelo qua Attiratelo qua Attiratelo qui Ma no Ma no No Sherry No Sherry Sherry ti devi alzare No 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 Non No ci dovrebbero essere eccole qua sotto come ci arrivo però ci deve essere un punto per poter la nostra occasione dai ma cosa eccolo ok ok roger 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 Hai già affrontato questa cosa ed espiri ancora? Roger! Sto scherzando? Mi ci diverso! Non sai del tutto stato, vero? Mi piace il tuo ottimismo, è il profumo della vita proprio! Oh porca! Leon! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Si porta dietro i campi? Devo a me, almeno è preparato. Beh, guarda, non è una cosa proprio chic, eh? Come dicevo, è indistruttibile! Speravo stessi esagerando! Purtroppo no, ma non significa che gliela daremo vita! Vieni! Sherry! Sherry! Riascolta! Finché non arriviamo, devi... Ehi! Se è solo la metà di come lo descrivi, starà benone. Ok? Hai ragione. Speriamoci. Kucheng è più avanti, alla focce del fiume. Ok, andiamo. Ti preoccupi per Simons, vero? Andrà tutto bene. Ok? Andiamo! Chris? Sei stato tu? Cristo santo! Attenzione! Questa giornata non mi scena! Non è tornato! Quel bastardo non la smette! No! No! Oh, 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 oh. Hmm. Oh, 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 oh. piano No, no, no. Che diavolo è stato? Non lo so, ma chiunque sia stato mi ha salvato la vita. Laggiù è il punto d'incontro. La peggiore barca dal Titanic. La peggiore barca dal Titanic. Sì. Sì. Quasi. Ok, arriviamo appena possibile. Il boss ti tiene sempre d'occhio, eh? Per ora. Allora andiamo. Cosa vorresti dirmi, Chevi? Allora andiamo. Allora andiamo. Vieni Sherry, dai! Voglio che tu scappi, qualunque cosa debba succedere, ti prego, promettilo, va bene. No, aspetta! Ah, agente Birkin, un tempismo impeccabile. Le dispiacerebbe restare subito questi due? Dicono che fai parte dell'attacco terroristico, è vero! Cosa? Se ne vanno in giro per le strade gridandolo ai 420? Rispondimi! È tutto per il bene degli Stati Uniti e per la sicurezza globale. Non vedo come uccidere il presidente Giovia, la nazione! Il presidente è morto. Beh, dobbiamo ringraziare Leon per questo. Maledizione, Simons! Eliminatevi. No, fermi! Che sta per fuoco! Quei due potrebbero tornarci utili. Tu devi fare più attenzione. Ok, ok, allora qual è il piano, eroe? Pensi di arrivare a quella porta? Perché non li eliminiamo? Perché ho bisogno che tu protegga Sherry. Non siamo a fare in fretta. Ho cose più importanti da fare. Che farete poi tu? Elimineremo Simons. Qui ci sono informazioni che potrebbero fermare il virus C. Simons le vuole? Grazie. Chiamerò la base e farò in modo che vi proteggano. Ora andate! Io quanto amo queste scene d'azione. Sono un po'... Particolari. Non se ne parla. Ma l'hai promesso? Ho mentito. Non ti pare Sherry che ti lasciato sulla. Non ti pare mai. Che incontro. Sherry! 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 Fruppi